Grazie Presidente. Inizio con il dire che ovviamente è un dispiacere che il Governo per mezzo della sottosegretaria all'istruzione abbia tentato di riscrivere quasi in toto gli impegni della mozione del Movimento 5 Stelle, anche perché se avessimo voluto scrivere gli stessi impegni della maggioranza probabilmente avremmo sottoscritto la mozione della maggioranza. Ma siccome riteniamo che nella mozione della maggioranza, soprattutto nelle premesse, si faccia un resoconto dello status quo e quindi di tutto quello che il Governo avrebbe messo in atto a sostegno del diritto allo studio, per la lotta alla dispersione e all'abbandono scolastico e per ridurre sempre di più le diseguaglianze tra cittadini che appartengono a territori differenti, Ecco, noi non crediamo che tutto questo sia effettivamente in atto, motivo per cui non accetto le riformulazioni sugli impegni alla mozione a prima firma del collega Caso, anche perché sono riformulazioni che in alcuni casi vogliono negare la realtà, come ad esempio le diseguaglianze che si accentueranno attraverso l'attuazione dell'autonomia differenziata, che tra i tanti temi riguarderà anche quello dell'istruzione, decretando sostanzialmente la morte di ciò che la nostra Costituzione affida all'istruzione, cioè la formazione dei cittadini e delle cittadine italiane in maniera omogenea su tutto il territorio, perché con l'autonomia differenziata noi avremo ancora di più studenti e studentesse di serie A, di serie B e di serie C e avremo anche un diverso indirizzo didattico che ovviamente le regioni potranno attuare, per non parlare delle cosiddette gabbie salariali, più volte citate dal Ministro Valditara, che potranno concretamente attuarsi. Come ogni inizio dell'anno scolastico anche questo è stato un inizio che ha visto come protagonisti i soliti disagi per i docenti e una consapevolezza. Ancora una volta le famiglie nel nostro Paese dovranno fare i conti con il caroscuola, una spesa che in media si aggira oltre i mille euro a studente per acquistare non solo il corredo scolastico ma anche i libri. Lo scorso anno il Movimento 5 Stelle in una conferenza stampa aveva presentato le proprie proposte di legge per affrontare il tema del caroscuola. La proposta in questione è a mia prima firma e chiede di poter istituire la dote scolastica. Una dote scolastica, una dote educativa che potrebbe consentire a tutti gli studenti del nostro Paese di poter studiare gratuitamente fino al compimento dei 18 anni. Quindi avere un supporto per tutte le famiglie, anche quelle del cosiddetto ceto medio, perché la dote educativa prevede un ISEE fino a 45 mila euro per poter usufruire di tutta una serie di servizi per aiutare non solo le famiglie a sopportare il caroscuola ma anche per supportare gli studenti e le studentesse nel loro percorso didattico ma anche formativo e di crescita personale, accedendo quindi a tutta una serie di opportunità dallo sport alla cultura che spesso e volentieri sono negate ovviamente a quei ragazzi e quelle ragazze che non vengono da famiglie benestanti. Purtroppo nonostante l'anno sia trascorso affrontando diversi provvedimenti in commissione istruzione non ci è stata data la possibilità di affrontare forse il tema dei temi che è quello del diritto allo studio. Abbiamo discusso del liceo del Made in Italy e addirittura è nata una fondazione per il Made in Italy, un liceo del Made in Italy che abbiamo visto essere fallimentare non solo per l'esiguo numero di studenti che hanno scelto questo indirizzo didattico ma anche per i rilievi fatti dal Consiglio di Stato. Abbiamo assistito al divieto di utilizzo degli smartphone, una cosa che comunque già esisteva all'interno delle scuole ma di fatto in questo modo noi vietiamo a quella che è la generazione dei nativi digitali di utilizzare uno strumento che di fatto loro conoscono alla perfezione e forse l'utilizzo degli smartphone dovrebbe essere come dire vietato agli adulti che ne abusano e danno spesso un cattivo esempio anche ai ragazzi. Abbiamo affrontato provvedimenti come quello sulla filiera tecnico professionale dove questo governo, questa maggioranza di centrodestra ci hanno detto che i nostri ragazzi e le nostre ragazze devono essere addestrati e cioè che la scuola serve ad addestrare e non a formare il libero pensiero a responsabilizzare e a garantire una crescita nelle migliori possibilità e nel miglior contesto sociale e culturale. Abbiamo poi affrontato la pantomima della cosiddetta propaganda gender perché siete profondamente convinti che nelle scuole italiane parlare di educazione alle relazioni, di educazione all'affettività, di educazione alla sessualità, di parlare di come contrastare la violenza di genere per voi sia propaganda gender. La notizia è che la propaganda e l'ideologia gender, dati scientifici, studi scientifici alla mano non esiste. È un'invenzione tutta politica che viene strumentalizzata da alcune parti politiche per accentuare le discriminazioni nei confronti di determinate categorie di cittadini e cittadine. Salvo poi però scoprire recentemente che in realtà l'educazione sessuale viene realizzata in moltissime scuole proprio dalle associazioni provita, addirittura accreditate proprio al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Io però piuttosto che affrontare quelli che sono tutti i dati e conosciamo tutti sulle difficoltà che hanno i nostri studenti e le nostre studentesse all'accesso ovviamente agli studi scolastici, vorrei aprire una riflessione in quest'Aula su che cosa sia oggi il diritto allo studio, considerando la complessità che oggi viviamo della nostra società che si riflette poi in un panorama scolastico sempre più eterogeneo e le evidenze dimostrano che gli studenti provenienti da contesti svantaggiati e quelli che subiscono disparità di trattamento hanno risultati scolastici ben inferiori alle aspettative. Su questo punto mi verrebbe da domandare che cosa ha fatto il Governo Meloni. Il Governo Meloni ha deciso innanzitutto di tagliare 700 istituzioni scolastiche per risparmiare circa 100 milioni e ha decretato la morte delle scuole soprattutto nelle aree interne del nostro Paese, quelle marginali e periferiche, quelle a rischio spopolamento e chissà che cosa accadrà su queste aree proprio a causa dell'autonomia differenziata tanto voluta da questo Governo e da questa maggioranza. Ma lo svantaggio e quindi le barriere dell'esercizio, del diritto allo studio non nascono soltanto dalla provenienza geografica. Oggi questo tipo di svantaggio si proietta sulle giovani generazioni anche attraverso le discriminazioni di genere, di appartenenza a determinate culture e comunità. Ecco perché l'Unione Europea su questo ha emanato numerose raccomandazioni e ha messo in piedi tutta una serie di strategie per contrastare la discriminazione e gli stereotipi e promuovere la diversità. Per questo nel 2019 decidemmo di inserire l'educazione civica nelle scuole con l'obiettivo di costruire una scuola che fosse aperta e inclusiva, dove la cittadinanza potesse essere un percorso di maturazione e di responsabilizzazione basato sulla consapevolezza dei propri diritti e doveri e possibilmente sull'intenzione di lavorare affinché si potesse raggiungere la piena realizzazione dell'uguaglianza nell'accesso ai diritti, valorizzando le peculiarità di ogni persona. Il concetto di educazione civica però è molto diverso per questo Governo. Abbiamo visto un indirizzo pieno di prescrizioni affinché i ragazzi con le nuove linee guida sull'educazione civica comprendano il valore dell'iniziativa economica privata e della proprietà privata piuttosto che della lotta contro ogni forma di discriminazione. Concludo, Presidente, mi dia solo la possibilità di fare una riflessione finale. Più che il diritto allo studio, a me sembra che questo Governo spinga per il diritto alla guerra, tant'è che avete accettato lo scorporamento dal patto di stabilità delle spese per la difesa. Forse sarebbe stato meglio chiedere lo scorporamento degli investimenti sull'istruzione, liberando finalmente il diritto allo studio dall'essere considerato come una spesa da contenere. Forse è proprio su questo che dovremmo lavorare per riformare l'Europa, partire dal consolidamento di diritti e libertà come quello ad un'istruzione e ad una formazione che sia davvero finalmente accessibile per tutti.